andiamo giù vorremmo andare a aprire il bunker adesso se ci attivano la corrente di là se no la vado a attivare io oh cacchio ma porco ma pensavo era morto ma guardate pensavo era morto regà aspetta che c'è il teschio qua venite qua no è sparito ok ancora in altro se questo mi si mangiamo c'è la miseria oh quello quando ho letto sopravvivi pensavo fosse morto poi vabbè mi sono a rianimare grandi aspetta che apro qua ok andiamo 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 attivare la corrente andiamo andiamo già andiamo attivata già hanno fatto tutto no cacchio ma cioè ma perché non mai dove te morì per curiosità tento che ci sta arrivando uno alle spalle ti sta arrivando aspetta aspetta tenta le spalle tenta le spalle porco cane grande 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 rianimami mannaggia mi ha rianimato dai dai qualcuno qua mannaggia cacchio perché l'HVK non me l'ha ammazzati su 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 dai stai qua su dai dai cialo di sera sono morto io devo arrivare dove morì io che cacchio però cioè se me ne ha ficca tutti qua dentro ma perché se me ne ha ficca qua questo è Mx Garand su apri là ma perché non fanno le cose che dovrebbero fare aspetta qua che c'è sta levati un po' oh cacchio su apri la cacchio di cosa mo serve di più per sconfiggere aia aprite la cacchio di cosa ma già voi perché non devo no su siamo a posto oh l'hanno attivato oh grandissimi via via da qua uscimo da qua cacchio cacchio no e che cacchio cioè ma perché devo chiappare sempre i pezzi di ferro pur caccia la misera e me incastro sempre sempre su sto qua su uscimo da qua che nazionaccio a parte sono rimasto pure senza munizioni che c'è sta qua muro hai detto qualcosa sul fatto di tornare oh ecuda bello ognuno ha i suoi vizi allora qua ci abbiamo finalmente la corrente permanente via da qua pazzare rincola troppo il cuta su zombie eh e la peppa e quanti siete via 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 con profonda unità anche le mie narici vengono messe alla prova del fatto finite le munizioni sarò finito anch'io eh no porcaccia la miseria sempre le munizioni finite mori mori dannate tutti quanti oh ma zio ho fatto pure un boato dei punti niente da fare niente da fare vabbè ma stiamo già al decimo round e non avevamo fatto niente la kt4 il teschio cioè non avevamo fatto un corbo raga cioè qua mi venisse aiutare qualcuno cioè bu dai sta qua dai regà sto qua oh grandi manca solo la pianta la pianta posso non la prende io su 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 rianimami dai sta qua prima di morire vai guardate regà cioè siete in tre santissimo il cielo ma uno mi veniva aiutare no ma porcaccia la vostra miseria cioè tocca aspetta un attimo di camperasse rimaniamo tutti vicini mori come fai via i corpi neppure brividi e conati potranno fermarmi e via oh ma chi è via 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 e scappa cacciala oh oh che è tutta sta gente oh troppa eh troppa per i miei cussi no e dai ma perché cioè mi radia la testa e non moreno oh grande grande doppio wow cazzo no sarola è stavalteschio qua che è sparito sto qua sto qua dove sta sto qua regà questi due sono morti quell'altro c'è sta uno che mi rianimava però non potemo andare troppo avanti quei round regà cioè stiamo all'undicesimo round e non siamo fatto ancora il borteschio la maschera c'è un cacchio non mi sono comportato davvero guerriero allora andiamo io e te adesso lasciamolo andiamo a pia l'arma la cosa è falla la kt4 cioè quasi non ci fanno tutto da soli andiamo vediamo un po' se stanno lui a prendere il fiore dai vediamo un po' se scende lui ok la sanda prende lui oh qua c'è sa gli spiriti richiedono un'offerta che cosa pure due e basta c'era tutte ste storie staffa dai dai che finalmente c'è mola kt4 su la lama è la mia ultima e più letale risorsa su vedete la prende su dai stronzoni facciamo botte dai dai mamma mia mamma mia che figa dammo su dai dammo 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 te secuo dai finalmente ho trovato qualcuno un gamba andiamo cacchio dai andiamo non li ammazziamo andiamo avanti così su namo namo no ma perché perché dico io nella follia nella follia di rictofen tu che un tempo eri il suo peggior nemico aspetta che qua la mana prende un altro pezzo pure via 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 guardate la miseria aspetta che arrivo no c'è un ammazzato rianima me rianima me me oh quanti aspetta aspetta vengo a mettere in un punto migliore dai dai su 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 ce la fai ce la fai cacchio no vabbè abbiamo trovato una bella squadra purtroppo sempre per andare a salvare la gente uno ci rimane fregato infatti dovrei farmi più l'affari miei però finalmente avremmo riusciti a fare qualcosina va bene ragazzi spero che il video sia il vostro credimento e ci vediamo a breve con tanti nuovi video zombie se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale